Ciao a tutti da Vittorio, una notizia è che la Juventus, i giocatori della Juventus hanno deciso di tagliarsi lo stipendio, i giocatori della Juve in comunicato hanno annunciato che rinunceranno alle ultime quattro mensilità che dovranno percepire quest'anno, in realtà sostanzialmente dicono addio alle prime due mensilità, le altre due saranno pagate nell'anno successivo finanziario per cui da luglio per non gravare sul bilancio attuale della Juve, un bel gesto, una grande iniziativa, è un momento così di difficoltà del paese, quindi è veramente una cosa da apprezzare perché spesso critichiamo i calciatori che non capiscono il momento, pensano solo ai loro soldi e invece vediamo che quelli della Juve hanno fatto un gesto importante, rinunciare comunque a quattro mesi è un sacrificio importante. Nesce sconfitto, distrutto direi Damiano Tommasi che come ho sempre detto nei miei video, se mi ascoltate da un po' lo sapete, che purtroppo c'è gente che cerca di farsi pubblicità in situazioni veramente infelice. Damiano Tommasi da sempre prima ha criticato i club che non volevano bloccare i campionati eccetera e poi quando gli è stato detto beh, forse i calciatori dovrebbero fare la loro parte riducendo i propri stipendi, ha categoricamente detto di no ed è stato smentito spudoradamente dalla Juventus. Purtroppo la mia impressione è che Tommasi stia cercando di farsi pubblicità, il suo obiettivo è quello di diventare presidente della FIGC e che dire, dopo questo veramente l'associazione calciatori ne esce fortemente ridimensionata e andrebbe veramente riconsiderata la loro utilità che mi sembra nulla visto che l'iniziativa è venuta dai calciatori della Juve quando il presidente Tommasi diceva assolutamente no. La Juve risparmierebbe 90 milioni di euro così, non pagando quattro mesi di stipendio dei calciatori della Juve, 90 milioni di euro. Vi basti sapere che la Lazio all'anno, non quattro mesi ma 12 mesi, paga a calciatori qualcosa come 63 milioni di euro. Quindi capite quant'è l'abisso, la differenza clamorosa fra i stipendi della Juve e quelli della Lazio. La Juve risparmierebbe 90 milioni di euro, è una bella cifra, una cifra che consentirebbe decisamente alla Juve di andare avanti, di non andare in difficoltà in questi mesi. Ripeto, i calciatori della Juve, se non si dovesse concludere il campionato, rinuncerebbero due stipendi in due primi mesi del aprile-marzo, mentre i successivi due mesi, maggio-giugno, verrebbero pagati all'inizio del prossimo anno fiscale, per cui sostanzialmente non vedrebbero i primi due mesi, gli altri due verrebbero pagati in ritardo. Adesso penso che quasi tutte le altre squadre di Serie A seguiranno l'esempio della Juve e credo che sia una necessità per le squadre di calcio, perché come vi ho detto spesso molte squadre di calcio sono fortemente indebitate e avrebbero difficoltà a pagare i stipendi dei calciatori senza ricevere i soldi dei diritti televisivi, delle partite, eccetera, eccetera. Anche perché dall'altra parte Sky e The Zone stanno spingendo per non pagare l'ultima tranche, visto che il campionato è fermo, loro hanno pagato dei diritti che non possono esercitare perché il campionato non si gioca. Poi si riprenderà, cosa che secondo me è difficile perché si parla adesso di giocare a luglio e poi la stagione prossima quando la inizi a giocare, ricordiamoci che c'è l'Europeo, è già stato rinviato una volta, non può essere rinviato una seconda volta, quindi il campionato italiano deve finire decisamente a metà maggio e se si inizia a settembre inoltrato come si fa a finire a maggio, mica si può giocare durante lunedì, domenica e il mercoledì, c'è sempre la Champions League, l'Europa League, eccetera, eccetera, per cui la vedo difficilissima. Ecco, se il campionato non dovesse finire, The Zone e Sky non vogliono pagare l'ultima tranche e anche dal loro ragionamento non è sbagliato, ho pagato dei diritti di eventi televisivi che non posso trasmettere, che non ci saranno, rivolgo indietro i soldi. Ecco, in quel caso per i club la situazione diventerebbe molto, molto, molto complicata, per questo il taglio degli stipendi dei calciatori è fondamentale per andare avanti. È vero, la Juve è una delle squadre che in quest'anno era in grande difficoltà perché il parco, il monte stipendi era cresciuto in modo esponenziale, ma c'è la Juve, c'è l'Inter, c'è il Milan, la Roma, il Napoli, anche la Lazio, è in situazione non facile se non dovessero esserci le entrate dei diritti televisivi. Per cui questa prima mossa della Juve, dei calciatori della Juve, è sicuramente positiva non solo per la squadra juventina, ma in generale per il resto del calcio italiano e Damiano Tommasi ne esce malissimo come avevo preventivato. E voi che ne dite? Scrivetevi i commenti qua sotto. Ciao, alla prossima.